bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video vi do in anteprima qualcosa di clamoroso ragazzi quindi mi raccomando state lì perché si vedrà la carriera si vedrà il nuovo parco io cerco sempre di portarvi tutto subito quindi davvero ragazzi lasciate un bel like spero davvero che siate contenti di questa cosa che io vi porto veramente qualsiasi notizia quindi spero davvero qualsiasi notizia importante perché poi ci sono le notizie meno importanti c'è assolutamente meno qui invece c'è una sorta di trailer della carriera c'è una sorta di visitina al parco andiamo ragazzi like commento attivate la campanella e poi vi ricordo tutti i link qui sotto anche per gli abbonamenti tutto quanto ragazzi andiamo a vedere di che cosa si tratta è una reaction quindi anche per me è roba nuova ragazzi non so assolutamente cosa vedo facciamolo insieme ecco facciamo questa cosa insieme guardiamo il video insieme ok wow ragazzi la playa hanno cambiato completamente però devo poi rivederlo bene la carriera peccato ragazzi ci sono le canzoni sottofondo che fanno sicuramente copyright raga ma c'è io ho visto sia squadre scuole classiche e sia college o sbaglio dame e stang time c'è il draft c'è il draft c'è il draft raga non ho parlato perché sono preso bene ma sembra abbiano cambiato la struttura del quartiere forse lo scheletro sarà lo stesso ma che figo di sera alla playa signori ragazzi c'è il draft ancora attori importanti qui stiamo parlando della versione classica quella per ps4 e non la versione next gen attenzione quindi vuol dire che hanno lavorato anche stavolta ok la struttura di gioco magari è la stessa però c'è un nuovo parco c'è una nuova storia ok già iniziamo a mettere a posto qualche tassello cioè se io vengo qua vedo le uniformi del proem e cioè non credo che siano da college questa questa dovrebbe essere la scuola e poi vai nel college vedete che poi ha cambiato squadra quindi qua è nel college negli spartans eh potrebbe essere così ragazzi scuole college e poi draft ma mi hanno ascoltato hanno visto i miei video con le richieste poco ma sicuro no ragazzi non sembrerebbe qua è proprio cambiato tutto non è lo stesso forse lo scheletro ma neanche perché lì c'è una tenda no ragazzi qua è cambiato tutto cioè non è lo stesso scheletro lì c'è una tenda lì c'è no non è la stessa roba eh ragazzi hanno cambiato proprio tutto molto aria da da playa molto bella questa cosa la cosa che mi piace di più è appunto vedere scuole college dove molto probabilmente possiamo scegliere la squadra in cui andare perché credo che ci siano tutte a questo punto qua abbiamo UCLA ma se noi andiamo avanti ci sono gli spartans come abbiamo visto cioè guardate tutte ci sono ci sono tutte ragazzi no tutte no però alcune delle più importanti ce le hanno fatte vedere spero che almeno ce ne siano 6 o 7 ma a questo punto penso che siano solo quelle che ci hanno fatto vedere se no Zion non l'avevo visto prima se no secondo me sarebbe stupido far vedere solo queste secondo me fanno vedere solo queste questi college perché sono gli unici e poi il draft oh ma che fai scherziamo stiamo scherzando ragazzi a questo punto non ho assolutamente parole perché c'è sicuramente un cambiamento e eh sì forse nel gioco nel gameplay e tutto abbiamo visto e nella demo abbiamo visto qualcosa di simile però poi una volta entrato nel gioco ti diverti ragazzi perché c'è un parco nuovo ci sono sicuramente situazioni nuove il supporto per PS4 ci sarà da quello che vediamo e non sarà soltanto di sfuggita eh ragazzi io non la vedo così malissimo eh non lo so ha preso qualche ha preso qualche punticino ha preso qualche punticino che aveva perso nella demo qua ha ripreso qualche punticino questo ovviamente è il mio parere personale nel senso che io ero veramente un po' così vabbè ma che cavolo sarà adesso dico ah sono curiosino sono curiosello e quindi voglio assolutamente capire forse dovrò mettere l'audio io e togliere l'audio originale perché ci sono le musiche quindi andrebbe veramente non voglio assolutamente andare con i copyright contro i copyright però ragazzi per il resto vi faccio vedere tutte le immagini e devo dire che porca miseria qualcosa c'è qualcosa c'è ora tocca a voi ragazzi farvi sentire qui sotto nei commenti perché voglio sentire l'opinione di ognuno di voi sul parco magari potete fare un discorso potete fare un commento che ho scritto parco due punti carriera due punti quindi mi date la vostra opinione sia sul parco che avete visto e sia sulla carriera io potrei andare a vedere mille dettagli però sono rimasto veramente colpito dal fatto della carriera si fanno due step quindi non c'è soltanto college e poi vai direttamente in una squadra casaccio a caso no qua tu fai scuola qua tu fai college e fai draft bisognerà capire però come sarà poi implementato il draft nel senso che ehi come me lo inserisci poi il draft all'interno quello sì quello sì però oh sono veramente casato e voglio sentire la vostra opinione voglio sapere davvero cosa ne pensate di questa carriera io vi saluto fatemi sapere tutto perché questa terva mi ami allora sono rimasto in silenzio durante la reaction perché veramente non me l'aspettavo tante cose però ora sono abbastanza felice e non vedo l'ora di iniziare insieme a voi questa carriera qui sul mio canale youtube iscrivetevi ragazzi per tanti video like commento attivate la campanella per le notifiche per le live le notifiche sono sempre molto importanti quindi un abbraccio un bacione vi aspetto nei commenti like ragazzi bella arriviamo a mille like che spacchiamo tutto facciamolo vedere a tutti sto cacchio di trailer bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti